roma 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 bella a tutti da porkmons eccoci qua in questo nuovo LTS si chiama gans contro kura perchè non mi apre la lista amici gans contro kuruma raga e che dobbiamo fare di bello Prima a essere stecchito Prima a essere stecchito regà 1 1 1 1 Pericoloso pericoloso Aspettate Aiuto 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 regà Fatevi un attimo rilassare un attimo Ok Allora Grande parzivali Regà che devo fare che io Sono leggermente trollato Ma si salta troppo Qualcuno mi aiuta a capire O forse con la base c'è No 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 regà Qui è buono Allora Lì è ottimo regà Lì possiamo avere qualche suino Sei gpl mozzo Gpl mozzo è mio È vivo E' vivo e Gabriele Baccaro è pure sceso regà No 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 Stanno tutti qua sui Stanno tutti qua Oh 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 Aspettate Faccio il tempo a cambiare macchina regà Zitti zitti Ma c'è pure Macbass con la Kuruma Sono tutti giù Tutti giù ve lo giuro regà Dove c'è la Kuruma Regà Dove stanno Sì Arriva arriva arrivo Niko 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 Già erato Sì sì Occhio occhio Macbass Dai sono saliti tutti sopra la macchina regà Io lo so quello che dobbiamo fare Dobbiamo salire su E prendere qualche arma regà Zero salt Zero salt No perché sei sceso Vieni qua zero salt Vieni qua vieni qua sotto Ma se ne è accorto Salt Salt sono io eh Ok No Sì sono vivo regà Non mi chiedete niente LTS Veramente particolare Siamo pure armati Questa sì che è una buona notizia regà Allora io devo andarmi a rifornire però di snack perché Ecco Mi è rimasto pochissimo Giubbetti ce ne abbiamo Ce ne abbiamo Macbass giubbetti Ogni volta che faccio questi LTS Regà ci vuole Un quarto d'ora per capire quello che devo fare E non so perché mi si è spenta la macchina Ok Ah funziona funziona Allora diciamo che è zona tranquilla regà Funziona il mio Fucile a pompa contro La Kuruma Ehi 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 Alebaretto Preso 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 Ed è vivo però Ecco l'unico problema è che sopravvivo regà Questa cosa non va assolutamente bene Vediamo Tu ho ripreso Alebarra? Credo Credo Ok Saltiamo per di qua regà Un C4 ci voleva No sta lì Noi quanti siamo? Siamo in tre Io non so però Se posso usare Lo shotgun Regà No Potevi rimbalzare là Mi sa che sono tutti armati eh Non c'è un punto dove posso stare eh Ci provo regà Io ci provo C'ho pure la minigun No 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 Non mi trovo là Non mi trovo là Sui Fermo 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 Vieni qua Non posso lasciare l'arma qui Sui Prendite Ma che ho lasciato? Munizioni non si sa dove Zitti No raga C'ho solo 5 munizioni Non ce lo voglio credi Che è successo poi? Una spinta anomala Mi hai aiutato te sui? Due munizioni mi rimangono Io salgo su regà Ok Non lo so se funziona proprio bene Perché il finestrino è minuscolo regà Che possiamo fare? Quanti siamo? No regà Prima che finisce il tempo Almeno una kill Almeno una kill regà Aiutatemi Quelli della mia squadra Aiutatemi per favore Chi era quello? Chi c'è qua sopra? L'ha narrato? Grande sui Ma lo arroio? Lo arroio Lo arroio Lo arroio Sui Lo arroio Lo arroio E' altro che esplode Aspetta Aspetta E' schiappi Macbass Se sono invertite le parti Qua eh Dov'è? Quale regà? E' quello? No sta dietro Sta dietro Sta dietro Missili Ce ne stanno missili? No E vabbè C'abbiamo il minican Dai Esci fuori Esci fuori Eccolo Eccolo Ha cambiato macchina Secondo me Eccolo 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 Aspettate Ok Tanto un po' Le indeboliamo Sì Dov'è che vuoi andare? Non ci arriva Non ci arriva Non ci arriva la mira Regà Oddio pure Guardalo Guardalo Abbiamo vinto Abbiamo vinto Regà Però se lo prendevo in volo Era ancora più bello Round vincitore Prossimo round Ok Secondo round Allora io voglio capire Se ha un MG L'MG Mi gusta leggermente di più Del Pucino a pompa Regà Allora Vediamo Vediamo Radiante Quella è una protezione Sì Oh Arato 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 Regà E' un altro Che sale qui L'avevo detto L'MG E' eccezionale Oh regà Non c'è Sa capiglietti Mamma mia Tu sta Tu sta Tu sta Questo Questo è il mio Macbus No Peccato Peccato Regà Eh non è proprio facile Prenderli in pieno Dai Mamma mia Black Tiger Ah regà Sono vivo Sono vivo Zitti No 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 Ali 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 Per favore Aratelo 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 No regà C'avevo l'MG Lo potevo arare Con l'MG Ok Terzo round Regà Allora Noi dobbiamo saltare In quel punto Dove non ci sono Quelle barriere Quelle bianche Però Se qualcuno sale là E' pure buono Eh Sa che il punto Era esattamente questo Sì Però questo Regà A chiara A chiara Zonasolt Povero Zonasolt Arato 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 Però io lo voglio schiacciare L'altro porca Dov'è 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 Dove si trova Zonasolt E' fuggito E' fuggito Dove è andato Zonasolt Dove sei Dove sta aria Non c'è più Arriamo qualcun altro No Qui nessuno Vai di qua No Sono fritto Sono fritto Sono fritto Sono ancora fritto Sono vivo Ah Non lo so Se l'ho arato Qua Zonasolt Ehi Ehi Potevi saltare Un altro pochetto E poi ha preso Più di un turbo Regà Zitti Zitti No regà Eh Cambiamo Questa Kuruma Perché credo Che sia Leggermente Arrivata Ma voglio capire Senza Zonasolt C'è Sì che c'è C'è Regà Allora vediamo dove stanno Aspettate Perché vedo che stanno tutti Sulle barriere Eccoli Poi possiamo fare Qualcosina di carino Che stanno qui Black Tiger Dario e Sergio Ando vai Dario e Sergio Arato 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 Ok Ah oh Trovami Non so dove stai Non so dove sei finito GPL Mamma mia Allora piedi Sei nascosto a piedi Sicuro Regà C'è ancora Black Là sopra No Non ne sparate Non ne sparate Eh qua prende Un turbo assurdo Regà Chissà dove si è nascosto Non lo so Non lo so Non ho idea Ah Regà Chi è che mi ha schiacciato Prima Macbass Aiuto 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 Macbass Macbass dove sei No Macbass No Macbass Macbass Ok Non mi ha dato la kill Regà Ma potete Da pure il fuciretto A sto punto Era più carino Era più carino Non so se questa è usata Credo di no Non mi ha dato la kill Regà Non si sa il perché Ah Difficilissimo Saltare di l'altro GPL Via via Troppi colpi Troppi colpi Troppi colpi Regà ma solamente due E due liberati Solamente io Che vuoi Shadow Con sta macchina Il problema è che cadono E prendono pure la macchina Mannaggia che si è spostato Mamma mia Si è spostato Regà Ok Sta ancora lì Sì sì Intanto mi prevedo Ando va Mamma mia Mamma mia Poi devo fare una doppietta Black Tiger Arato Regà Arato Arato Lui sta qui Gabbiere Baccaro Arato C'è nessuno Non Non ho GPL Regà vi giuro Ho detto non m'ha visto Il problema è che non l'avevo visto Nemmeno io Però ho detto Magari prendo quell'arma Regà stavamo facendo Un round Meraviglioso Non dovevo fare questo errore Perché eravamo 3 contro 3 3 contro 3 Regà Che mi son mangiato Per favore Luca E Sonicchi Fate qualcosa Per favore Non dovevo scendere Non dovevo scendere Regà Che peccato Regà questa è l'immagine Che mi ha mandato Zero Salt Dove stava? Dove è andata a finire Scusate Ok regà Era cresciatore LTS Ma tanto me sa Mancava l'ultimo round Quindi ho avviato solamente un round Chi vince questo Vince assolutamente tutto Andiamo? Allora Io aspetterei un attimo Perché Ok Questo volevo io Mi piace tanto colpire la gente Che sta qui Tipo Questo bel Pasqui Mamma mia Regà Perché era di Taverso Aspettate Qua mi arano Qua mi arano Alle bar Arato Mattu No Mattu è nella nostra squadra Regà No qui non mi piace Qui sì Qui c'è qualcuno Chi è? Il Hug Qui 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 Chi è? Dario e Sergio Ha ridotto in poltia Povero Dario Eh perdonami eh C'è la seconda volta Che Tearo Ti seguito Non merito di essere arato Vero? No no Non merito Aspettate Sì sì Chi c'è qua? Pasco Qui No regà Ma io mi esplodo eh Quanto è bello Che resiste tanto Questa Kuruma Regà Bellissimo Favoloso Allora Fino adesso Due Due arati Da Ressarge GPL Mos Vediamo se c'è qualcuno Là sopra Sono imparato a lezione Black Tire No Dai Ci ho creduto Per un attimo Regà Ci ho creduto No Aspettate Qua sono pericolosi No No Non ti fermo Mamma mia Regà Mi avevano quasi arato E Inventario Snack Usiamo questi Pochi Snack Giubbotti Aiuto 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 Voi dove uscite fuori Scusate eh No vi piace più Per dirla Aspettate Che qua c'è qualcuno Eh Madore Che l'ho sfiorato L'ho sfiorato E non se n'era Nemmeno accorto Bravo Leonardo No 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 Niente 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 Via 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 La loro Stanno in macchina Sono in tre In macchina Dobbiamo riuscire a Sopravvivere No qui Non ce la fa Riga Inutile Un salto Così Non ce la fa Deve essere Quasi dritto Lui è sceso Aspettate eh Non so quanto Mi manca Per questa Macchina Vasco Vai piano Vai piano Vasco E questa è la direzione Di Vasco Così Sì sì Vasco Vasco Se non mi avevi visto Se non mi avevi Oh no Questi Questi Scoppa Scoppa Per fuori Per fuori Non ce la voglio Credi dalle barre Non ce la voglio Credi Dove cavoli tua Non ce la voglio Credi E vabbè Chi vince questo Vince tutto Tanno vinto loro Riga Dobbiamo essere onesti Però Belle LTS Spettacolari Se vi è piaciuto Questa LTS Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo video Bello Grazie a tutti Autore dei sorrisi